Anche per te si stanno aprendo le porte del mondo della moda, hai due guide sicure. Che cosa ti ha fatto appassionare a questa attività? All'inizio mi ha contattato appunto con Cetteliardo per partire ad un evento a Salerno e da lì in poi è cresciuta sempre di più comunque questa passione che ho avuto da sempre. E che cosa ti auguri per il tuo futuro? Beh, mi auguro che sia un futuro ricco di sorprese e di soddisfazioni comunque. Anche Denise è appassionata del mondo della moda. Sì, ho iniziato questa esperienza mesi fa, ho visto comunque i giovani che seguivano i loro sogni e ho deciso anche che il mio sogno potrà essere portato a fine con la Concea Evans. Sono stata anche a Milano e ho fatto uno shoot fotografico e sono sempre soddisfatta della Concea Evans e credo di portare a termine questa cosa. Benissimo, oltre però alla moda vi occupate anche di arte varia, tipo la musica. Infatti tu sei ad esempio una cantante. Sì, sì, ho iniziato a studiare scuola di canto da più di tre anni. Comunque quando canto cerco di esprimere le mie emozioni alle persone che comunque mi ascoltano. Fa parte anche della grande famiglia della Concea Evans, Graziano, che tutti conosciamo, per la musica che ci fai ascoltare. Come ti sei avvicinato a questo gruppo? Allora, ho iniziato per gioco. Un giorno mi vedo con Giuseppe e mi dice guarda, voglio cercare di mettere la tua immagine non come moda ma come musica. E io gli ho detto ma stai scherzando? E lui mi fa no, proviamoci. Abbiamo fatto la prima sfilata e abbiamo trasformato il palco in una discoteca. Cioè la gente, le famiglie ballavano sotto il palco. E da lì è nata una collaborazione, abbiamo deciso ok, in ogni sfilata metteremo la figura del DJ perché infatti stiamo preparando questo grande evento che sarà il Carnevale. Aspetteremo la piazza di Gela piena e trasformare non solo l'evento in un evento di moda ma anche in discoteca. Possiamo dare qualche anticipazione su questo Carnevale? Sì, ci stiamo lavorando. Ci sarà un grandissimo palco, un ospite a sorpresa. E l'agenzia, la Concevent, che ormai ovunque si sposta, porta sempre tantissima gente.